Buonasera a tutti e benvenuti a questa edizione straordinaria del Genesis Day News, un'edizione estiva più fresca e meno informale. Un'edizione che comunque serve per il lancio di questa, che è la maglietta del Genesis Day di Assisi. Molti di voi già ce l'hanno, molti altri no. Quindi ragazzi approfittatene, contattate il nostro amico Stefano, Stefano Bronzi, il quale, come al solito, vi risponderà immantinente, in maniera esauriente e veloce. Per adesso vi saluto, buone vacanze e a presto. Ciao! Grazie a tutti!